Inserimento del lente a contatto minusclerale. Si utilizza generalmente una ventosa cava, tagliata, che non ha più effetto ventoso, ma è soltanto più un supporto e consente di vedere attraverso per meglio centrare la lente rispetto all'occhio. Si posiziona la lente sul supporto, la si centra e si riempie la parte concava con abbondante soluzione salina monodose. Si posizionano le dita sul bordo palpebrale tenendolo bene aperto e si inserisce la lente avvicinandola all'occhio cercando di non stringere le palpebre nel momento in cui si sente il freddo. Una volta che la lente è stata appoggiata si possono rilasciare le palpebre.